perché questo è il massimo e quindi non posso lasciare nulla di intentato prosciutto crudo prosciutto crudo in pozzetto qualche calice e qualcuno che si risveglia buongiorno buongiorno ma avete abbandonato un crudo è un delitto presidente non so se hai visto lo spirito barcolana venga con me venga con me tu sei visto lo spirito barcolana vede prosciutto crudo e calice e vicino c'è mauro per la schia che è una colonna della vela mondiale questa questa è la barcolana questa è anche la fortuna della barcolana tutti possono partecipare popolare si può partecipare appunto con una bella fetta di prosciutto oppure con tutta la professionalità di mauro però insomma credo che sia veramente una festa di popolo